mutuo casa vent'anni a tasso variabile taeghe 0,89 per cento nella terra dei giganti un tasso piccolo piccolo banco di sardegna gruppo biper e partiamo da lontano quando tu sei diventato presidente e hai preso un foglio una notte con giovanni e gian mario è scritto dei capisaldi su un foglio 4 ecco cosa scriveresti oggi su quel foglio nel 2018 ma guarda quel foglio che in realtà poi non abbiamo mai strappato l'ho sempre conservato è stato poi ricambiato nel 2014 l'abbiamo ancora aggiornato nel 2018 e ora stiamo seguendo quello che abbiamo scritto nel 2018 e fino al 2022 abbiamo un percorso già fatto è facile nel senso che sassari è una piazza che ha passione di basket ma anche delle regole economiche molto chiare per cui sassari si può permettere di fare questo tipo di progetto soltanto se segue determinati principi se determinate regole quelle che ti portano ad avere una società sana una società che non fa mai il passo più lungo della gamba che ha e che comunque stabilmente ormai a diversi anni sta in una certa posizione tu i primi anni hai indossato una maglietta molto significativa io mi ricordo sempre da dove sono venuto dalla serie b che portavi con grande orgoglio cos'è rimasto di queste fanno sarà ma è rimasto tutto ma realtà non l'ho indossata per lungo tempo è stato soltanto una simpatico a questo punto perché ormai insomma il rapporto è consolidato batti becco che c'era stato all'epoca con alcuni tifosi che avevano fischiato una neopromossa ma io ho fatto la c2 ho fatto la c1 ho fatto la b poi la lega 2 non posso dimenticare da dove arrivo perché poi la cosa che che mi ha sempre stupito è che la passione identica cioè cambiano le cose più che altro ciò che c'è sul piatto no però la sostanza non cambia la passione e la tensione per come finisce una partita identica in c2 lo sai bene anche tu come lo insediato certo palazzetto ci sono in italia diverse situazioni ovvero tortona che lo costruisce in 15 mesi grazie ai privati cantù che cerca ancora di costruirlo ci sono delle bellissime arene e ce ne sono delle altre fattiscenti sassari dove si vuole collocare ma sassari tanto attualmente si colloca in una fascia medio alta perché nonostante la nostra vecchia signora abbia i suoi anni si riporta ancora bene perché comunque l'amministrazione negli anni e la dinamo anche abbiamo fatto una serie di interventi per renderlo sempre più adeguato è uno dei pochi palazzetti a 5.000 posti anche se attualmente la capienza ridotta per i lavori che sono in corso il restyling che è stato messo in piedi dal comune molto importante perché portano investimenti di quasi 5 milioni l'arena arriverà tra i 6.700 e 7.000 posti e quindi cambia in prospettiva si colloca in un ripeto in un range medio alto e ha mantenuto uno standi uno standing elevato fino a oggi parliamo di g league italiana allora nel calcio è appena fallito il progetto che avevano tantissime la lega di fare le seconde squadre in lega pro delle più solo la juve probabilmente le farà nel basket invece è successo un po il contrario nel senso che il progetto Cagliari che avete che abbiamo improntato sembra essere una scelta vincente una strada giusta da percorrere nel basket è sicuramente una strada che è stata aperta non smetterò mai di ringraziare il presidente Petruccio e la federazione per l'appoggio che ci hanno dato in un progetto che all'epoca era assolutamente innovativo e privo di regole da di gestione credo sia molto importante per tutti i club perché è innegabile che i giovani devono avere spazio ma è un discorso molto lungo nel senso che oggi viviamo ogni santo giorno una una quotidiana battaglia tra i risultati di cui tutti abbiamo bisogno e gli investimenti a medio e lungo termine ora se tu vuoi fare investimenti a medio e lungo termine non ti puoi permettere di rischiare troppo perché poi ti sembrano risultati quotidiani quindi la vede nella squadra la G League come la chiami tu ma la Lega 2 nel caso concreto oggi in Italia ti consente di far crescere i giovani con un minutaggio adeguato a quello che è necessario per la crescita professionale dei giocatori e anche umana e al tempo stesso avere quindi un bacino pronto per la prima volta. Mi allaccio a questo discorso appunto perché sono cambiate le regole anche quest'anno si è passato al 6 più 6 Milano cialotto più 4 avendo Bars e Brux come italiani è un discorso che può essere improntato per il futuro che va verso l'avere più italiani diciamo così nel roster oppure sarebbe meglio farli giocare come abbiamo detto in precedenza in una seconda squadra o comunque in un'altra squadra satellite tra virgolette per poterli far ricrescere. Personalmente credo che la soluzione non sia il 6 più 6 o il 3 più 4 più 5 non è lo straniero in più lo straniero in meno che cambia la crescita italiani per me la vera ricetta risiede nel settore giovanile e in quello che si riesce a fare a livello di istruzione di competenze, di investimenti fin da quando i ragazzini sono piccoli. In questa maniera cresce la massa di giocatori italiani che si presentano, si affacciano alla prima squadra e poi lo abbiamo fatto scegliendo materialmente quella che è la nostra idea e quella che loro possano avere un minutaggio importante ti ripeto, l'anno scorso abbiamo giocato con Bucarelli, Ebeling, Rull con 25 minuti, 30 minuti cioè è ovvio che quando arrivano in unità in prima squadra quest'anno abbiamo Diop che l'anno scorso in Udine ha giocato 20 minuti di media ma quasi 30 nei play-off, hanno un bagaglio di esperienza esatto cioè hanno vissuto, hanno fatto proprio perché poi la teoria come sappiamo è diversa dalla pratica e il campo è necessario quindi io credo che non sia un tema di formula io credo che perché la nazionale torni ad essere il vero faro ed è fondamentale per tutti noi questo, è necessario che tutto il movimento dal basso ricresca e a quel punto la cantela come la chiamiamo in Spagna o comunque il settore giovanile allargato la Lega 2 come lo abbiamo fatto noi è una chiave fondamentale. Un film e un libro, Match Point di Woody Allen, la palla che va sempre dal di là della rete o torna indietro. Come mai l'anno scorso è sempre da quel nastro lì tornata indietro la palla? Ma sai perché il basket è un po' come la vita, è un po' come lo studio, l'università, no? Io l'ho sempre detto, sono laureato molto giovane, ho avuto l'opportunità e la fortuna di non bucare mai nessuna sessione di esame, però c'è anche un pizzico di fortuna in tutto questo, nel senso che dipende da come sia arrivato il tuo pro, cioè messi tre mesi per preparare l'esame, poi ci sono tutta una serie di variabili che tu non puoi controllare, come è andata la nottata per te, come è andata la nottata per il professore, come è la dinamica della giornata e così è il campo. Il campo a volte basta un niente perché ti cambi radicalmente la stagione, ricordo ancora la Lega Basket che ha organizzato per ben due volte e tu l'hai vissuto con noi, il podio, convinti di premiare una certa squadra poi le cose sono cambiate, per alcuni tiri abbiamo vinto, per altri tiri abbiamo perso, secondo me bisogna essere più forti di queste cose, ma dobbiamo anche sapere che esistono queste cose. Certo, un libro importante, molto vecchio di Julius Verne è Il giro del mondo in 80 giorni, perché? Perché il giro del mondo in 80 giorni ormai c'è Cina, Qatar, non solo le coppe europee da dare dalla vetrina del dinamo, la Sardegna ormai è guardata in tutto il mondo. Sì, a questo aggiungi anche quello che per me a livello personale e affettivo è il risultato migliore che abbiamo raggiunto a livello aziendale, cioè la creazione di un vero e proprio mese spalla, cioè settembre ormai è veramente un mese spalla per il turismo e comunque per le presenze in Sardegna e la Sardegna è stabilmente nel top europeo dei tornei, cioè non esiste regione in Europa che organizzi i tornei che organizziamo noi per settembre, questo non è solo importante per noi per promuovere il nostro brand e per allenare la nostra squadra con le migliori, ma è anche importante perché in quel mese Turchia, Francia, Germania, Spagna parlano di noi, ogni anno noi poi andiamo a contare le testate che hanno parlato della Sardegna nel mese di settembre e sono veramente tante e questo è molto importante perché abbiamo invertito un altro senso comune che era quello che la preparazione, tu ricordi l'abbiamo fatta insieme anche, si fa in montagna e in altura. Il primo anno è stato un po' complesso perché abbiamo dovuto spiegare con i medici, con i preparatori che in realtà sabbia e acqua che proponevamo noi insieme a una struttura di altissimo livello come quella del Gio Village che è l'unica struttura che è un palazzetto all'interno con la recondizionata, quindi l'ambientamento è perfetto per poter fare al meglio l'attività e sabbia e acqua compensano la grande, la montagna come base di preparazione, quindi oggi noi abbiamo delle squadre che non vengono solo per giocare il torneo ma ne approfittano per fermarsi una settimana, 10 giorni e fare una parte del ritiro. Ultimi due flash, adesso la Serie A non è più una Serie A come qualche anno fa, c'erano squadre forti però probabilmente c'era una forbice più ampia, adesso dalla 2 viene su Trieste che prende Peric, che prende Chris Wright, probabilmente in futuro ritorneranno Fortitudo, Treviso, c'è Bologna, ci sono tante squadre che fanno concorrenza tra virgolette la Dinamo per quel posto playoff, non è così scontato però c'è grande competitività. Ma sai, è cambiata radicalmente la geopolitica del basket in Italia, noi siamo stati bravi e fortunati a cogliere l'attimo quando anni fa i budget importanti li contavi sul palmo della mano, ora non è più così perché a Vellino è diventato un club strutturato e bello competitivo, Bologna ha un patrono che si chiama Zanetti, Venezia è arrivato uno come Brugnaro che insomma è un imprenditore di altissimo livello, lasciamo perdere la Milano che già esisteva e allo stesso tempo arrivano società come Trento che sono riuscite a fare una bella crescita, quindi oggi vai a contare le prime 10 squadre e trovi 10 realtà che tutte possono dire a loro e tutte hanno diritto di rivendicare un posto nei playoff, è cambiato, dovremo essere bravi ad adattarci a questo mutamento, niente è più scontato, bisogna combattere su ogni punto sia a livello societario che a livello cestistico. Questa forte impronta di identità qui in Sardegna che ognuno deve far sua quando arriva qua alla Dinamo probabilmente. Quello che è importante comprendere è che Dinamo è una società un po' diversa dal tradizionale, per noi lo sport professionistico è ovviamente la cosa più importante ma in realtà facciamo tante altre cose che sono necessarie e nelle quali crediamo perché questo territorio è fatto così, non è un caso che noi ci sentiamo un pochino autonomi, diciamo la cosa senza stare a scomodare tematiche più importanti, però è chiaro che chi arriva qua deve entrarci in punta di piedi e comprendere bene le dinamiche che rappresentano questo club. Solo una parola perché hai scelto Esposito? Ma guarda in realtà con Enzo ho parlato anche dopo che era andato via a Meo, è un allenatore nel quale ho posto gli occhi già da diverso tempo perché ha avuto un'evoluzione da un punto di vista personale molto importante, nel senso che da quando era giocatore a quando è allenatore sono due persone molto diverse, è un grandissimo lavoratore, è uno che ha una comprensione da pallacanestro di altissimo livello, è uno che vuole crescere come noi, per cui devo dire ho avuto pochi dubbi sulla scelta di Enzo fin dal principio. Mutuo casa vent'anni a tasso variabile, Tiger 0,89%, la casa è un sogno a portata di Mutuo, Banco di Sardegna, Gruppo Viper.